Amici di Football is My Life, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi sono qua per fare la top 11 della sedicesima giornata di Serie A. È stata difficile, ma ce l'ho fatta. Avevo molti dubbi su chi scegliere, perché ero indeciso, un video che esce anche con un po' in ritardo, mi scuso, però... Oggi sono stato all'università fino a un'ora fa, circa, dopo trattornare e mettere a posto delle cose. Non so quando vedrete il video. Detto questo, iniziamo a fare la top 11 della sedicesima giornata. Allora, in Porto ho messo Sorrentino, Sorrentino del Chievo che nel pareggio tra Chievo e Roma ha parato di tutto, di tutto, compresi gli insulti dei tifosi romanisti a fine partita. In difeso ho messo Pezzella, Masiello e Goldaniga. Pezzella che ha giocato una partita attenta nel pareggio della Viola contro il Napoli, annullando l'attacco dei partenopei. Masiello anche lui molto bene, attento in fase difensiva, autore del gol decisivo della vittoria dell'Atalanta contro Genova. Goldaniga anche lui, bene in fase difensiva e uno dei due gol del Sassuolo contro il Crotone ha portato la sua firma. A centrocampo poi ho messo Buonaventura del Milan che ha segnato una doppietta decisiva per la vittoria dei Rossoneri contro il Bologna. Prima vittoria di Gattuso sulla panchina nel Milan, tra l'altro. Dopo ho messo Rincon, Rincon del Torino che ha giocato una buona partita fornendo una buona sostanza a centrocampo e segnando uno dei tre gol della vittoria del Toro contro la Lazio. Barak dell'Udinese, gol e assist per lui nella vittoria per 2-0 dell'Udinese contro il Benevento. E dopo Ilicic. Ilicic che è stato il migliore in campo, secondo me, nella partita tra Genova e Atalanta, dove ha segnato il gol del pareggio e ha fornito l'assist per il secondo gol della squadra. Poi in attacco troviamo dei nomi un po' strani che non sono sicuramente abituali. Allora ho messo Politano del Sassuolo, Politano assist e gol nella vittoria del Sassuolo contro il Crotone. Dopo ho messo Floccari della Spal, Floccari che non ha segnato però quando è entrato lui è riuscito a dare più peso all'attacco e grazie a lui la Spal è riuscita a pareggiare una partita che sembrava persa. E dopo come terzo attaccante ho messo Quagliarella, Quagliarella autore di due gol nella partita tra Cagliari e Samp. Non sono riusciti a... questa doppietta non è servita la Samp per vincere però secondo me la sua menzione nella top 11 ci sta tutta. Va bene ragazzi, per oggi è tutto. Fatemi sapere come la pensate. Come al solito mi invito a iscrivervi al canale YouTube, iscrivervi alla pagina Facebook, a lasciare un commento, a lasciare un mi piace, a passare per i vari canali di YouTube Football Project, trovate tutto in descrizione. Detto questo vi saluto. Ah no no, vorrei ancora dire una cosa. Vorrei fare i complimenti al Pordenone per la bellissima partita che ha giocato ieri contro l'Inter riuscendo a tenere testa e giocarsela contro la prima di Serie A. Vorrei fare i complimenti per essere arrivato fino ai calci di rigore e vorrei anche fare i complimenti ai 4.000 tifosi che sono giunti a San Siro per sostenere la squadra della loro città. Davvero, davvero un applauso a Pordenone. Va bene ragazzi, per questo video è tutto. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Grazie.